Si è presentato di buon mattino ed è stato ricevuto del suo ufficio dal sindaco di Monterchi Alfredo Romanelli. Vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci ha voluto prendere atto della situazione direttamente sul luogo per una vicenda che ha riacceso le attenzioni verso un'opera d'arte senza pace, la Madonna del parto. In attesa di un incontro con il ministro Romanelli ha preso atto che del caso se ne parlerà anche in regione come ha confermato lo stesso vicepresidente del Consiglio. Sono ben consapevole che la situazione è difficile, c'è un parere del Consiglio di Stato che inevitabilmente non potremo che rispettare quanto è stabilito dalla sentenza, questo noi lo sappiamo. Abbiamo anche il dovere però di interessarci perché sì il carattere scendibile dell'opera d'arte con la cappella è stato stabilito dal Consiglio di Stato ma abbiamo anche un legame che credo sia ugualmente profondo della comunità di Monterchi che andrebbe interpellata e dell'apertura verso il mondo perché questa si tratta di un'opera d'arte del mondo, non soltanto di Monterchi, non soltanto della Toscana. Quindi lasciatemi dire che non potevo che essere qui e chiedere con una interrogazione che ho presentato alla regione Toscana di attivarsi con il mister al fine di individuare una soluzione che possa essere veramente condivisa da tutti gli attori in causa e che possa veramente trovare il consenso anche della popolazione di Monterchi.